Domenica si inizia prima gara ufficiale a Ercolano. Sì, finalmente non vedevamo l'ora di iniziare a giocare per i tre punti. Sappiamo che sarà una partita difficile contro una squadra forte, una delle squadre candidate per arrivare fino in fondo. Che gladiador c'è da aspettarsi in questo mese di preparazione? Un gladiador che ha lavorato bene, in maniera intensa e in maniera seria. Un gruppo di ragazzi fantastici, insomma, ce la giocheremo sicuramente alla pari non solo dell'Ercolanese ma con tutte le squadre importanti di questo campionato. Ercolanese e Portici, l'antipasto del campionato che inizierà poi la settimana prossima. Coppa Italia, un obiettivo a cui il club Nerazzurro non rinuncerà certo? No, chiaramente puntiamo ad arrivare lontano in tutte le competizioni che facciamo. Sappiamo che non sarà semplice, sappiamo che c'è bisogno di una rosa competitiva. Fino a questo momento, insomma, diciamo che siamo a buon punto e speriamo di fare bella figura nella prima partita ufficiale.